Ferrero ha riscontrato un problema con il suo nuovo Nutella gelato pochi giorni dopo il lancio nei supermercati italiani. Un lotto specifico del Nutella Ice Cream Pot è stato richiamato a causa di un errore nell'etichettatura. Il Ministero della Salute ha segnalato che il richiamo è stato necessario per la mancanza della lista degli allergeni in italiano sull'etichetta del prodotto. Il lotto coinvolto, contrassegnato come L074 e L32B00, è stato principalmente distribuito in campagna, dove era in corso una campagna pubblicitaria. L'avviso, datato 13 giugno 2024, chiarisce che i barattoli di questo lotto non riportavano la lista degli ingredienti in italiano. Il Nutella Ice Cream Pot è prodotto nello stabilimento Ice Cream Factory con Macerdi Alzira, in Spagna, e viene venduto in barattoli da 230 grammi con scadenza al 5 settembre 2025. Ferrero ha informato i consumatori che la lista degli ingredienti in italiano è disponibile sul proprio sito web o contattando il numero verde 800.909.699. Il Nutella Ice Cream Pot contiene latte, panna, nocciole, soia e può contenere tracce di glutine, uova, mandorle, noci e pistacchi. Questo nuovo prodotto segna l'ingresso di Ferrero nel mercato italiano dei gelati in vaschette, ampliando la gamma che già include stecchi e coni. La produzione del gelato è stata affidata a una nuova linea in Spagna, specificamente allestita dal gruppo dolciario di Alba.